Guida Iasello, consigliere comunale, ma anche questa volta presenta alla competizione elettorale per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Cinque anni passati all'opposizione. Sì, cinque anni passati all'opposizione e con il documento firmato il primo maggio da questa coalizione ammucchiata di Figliolia, dove ci ritroviamo anche i miei partner di opposizione che non sono stati tali durante questi cinque anni, finalmente in maniera coerente vediamo chi in questi cinque anni è stato a sostegno dell'amministrazione Figliolia nonostante sia stato eletto dal popolo putiolano nel ruolo di oppositori e chi come me in maniera coerente è sempre stato all'opposizione non scendendo a nessun patto con questa amministrazione. A chi si riferisce che non ha rispettato il mandato degli elettori? Mi riferisco ai consiglieri Fenocchio che in maniera ufficiale dopo poco tempo dall'elezione del 2012 è passato in maggioranza dopo essere stato notevolmente contestato dal sindaco Figliolia e chi come Maione e Monaco in maniera trasversale sotto banco hanno avuto rapporti con il sindaco di Pozzuoli essendo stati comunque eletti all'opposizione insieme a me. Consigliere, ti presenterai a questa campagna elettorale con il candidato al sindaco Pasquale Giacobbe di Forza Italia? Sì, io in maniera coerente continuo ad essere e ad appartenere al partito di Forza Italia un centro-destra in questa città dove sostanzialmente è stato completamente abbandonato come dicevo prima da chi era stato eletto nel centro-destra nel 2012 e noi ci poniamo come alternativa politica a questa mucchiata che va dal centro-destra al centro-sinistra senza capire le motivazioni perché il sindaco Figliolia dice di aver lavorato bene non ha bisogno di imbarcare tutti per poter vincere lui dovrebbe vincere De Plano rispetto al fatto di dire che lui in questi cinque anni ha lavorato bene non capisco la necessità di imbarcare tutti noi ci poniamo come alternativa politica con una guida a capo della lista di Forza Italia come candidato sindaco che ha esperienza e con una lista che sarà un connubio di professionalità, di giovani, di esperienza che cercheranno insieme agli altri candidati sindaci in opposizione a Figliolia di porsi noi come alternativa politica e di coerenza in questa città grazie grazie